E ciao Anima Bella, sono sempre Elena Tione di Elena Tione, Healthy Life Coach, sollievo per donne con dolore pelvico cronico. E oggi, nella videopillola di oggi, ti volevo annunciare una preannunciata novità che avevo già lanciato nella mia newsletter riservata MindBodyNews all'inizio di quest'anno. Quindi questa è una videopillola semplicemente per fare sapere anche a te che sei nuova qui sul canale YouTube, che per quest'anno ho creato su richiesta, in realtà su grande richiesta, una nuova possibilità per lavorare insieme a me. Ricevo tantissime email, in questi anni ne ho ricevute veramente migliaia valangate e molto spesso sul mio blog anche mi vengono fatte tantissime domande. Quindi c'è la possibilità di richiedermi e di specificare quello su cui desideri maggiori delucidazioni, un confronto, una risposta da parte mia su un tema specifico, su qualcosa che non ti è chiaro, un incoraggiamento. E così come, naturalmente, nei commenti qui sotto i video, qui su YouTube, sulla mia pagina Facebook, le mie pagine Facebook, Idea Blanchi e Telti Life Coach, Vincere il Dolore Femminile e Sertiere Your Heart. Sono tutte linkate qui sotto nel box informazioni. E naturalmente oggi voglio introdurti questa novità per lavorare insieme in modo specifico, mirato sul tuo obiettivo specifico. Prima però di entrare, come al solito, nel vivo di questa videopillola, di questo annuncio, una cosa molto importante, quindi resta fino alla fine del video, perché ci sarà una cosa specifica che potrai ottenere, rimani fino alla fine del video. Se ancora non l'hai fatto, come sempre ti invito a iscriverti al canale, mettere un bel like al video e attivarti la campanella delle notifiche, perché in questo modo insegniamo, come sai, l'algoritmo di YouTube a mostrare a quante più donne e persone possibile questi video nel loro feed, dove normalmente non li vedrebbero. Quindi entriamo ora nel vivo di questo annuncio. E una delle prime annunciate, novità e nuove opportunità del 2021 per lavorare con me è una specifica e velocissima modalità di ricevere coaching on demand per aiutarti al meglio con un investimento minimal, ok? Perché naturalmente lavorare con me in sessione privata di un'ora ha un investimento completamente diverso. Ora, questa news è uscita, come ti dicevo, nella newsletter di MindBody News, dove puoi scaricare gratuitamente il mio ebook Keystarter Benessere, più l'audio traccia. Vedi, senti chi è di Crea, che è un fantastico tool audio in cui io ti guido passo a passo online, accessibile online, totalmente gratuito, che rimane sempre a te, l'accesso rimane sempre a te. e si è aggiunta questa nuova opportunità di lavorare insieme. E chiaramente molti di voi preferiscono non scrivere direttamente nei commenti pubblici, preferiscono interagire con me a livello privato. E infatti in tutti questi anni, ripeto, mi sono arrivate valanghe di mail. E però desiderate molto spesso avere un percorso in cui io vi seguo di più, ma con un investimento minimo, perché giustamente vuoi iniziare a fare i tuoi piccoli passettini partendo veramente da una cosa veramente agile. E quindi è stato creato il Mini Mind Body Coaching Bundle. Che cos'è il Mini Mind Body Coaching Bundle? È un pacchetto di 10-15 domande che mi puoi rivolgere direttamente in privato e funziona dove vuoi tu. Praticamente Telegram, Instagram, la messaggistica privata, Whatsapp, abbiamo un Whatsapp specifico dedicato a te, oppure via email riservata con risposta prioritaria. Le mie risposte alle tue domande ti arrivano entro 24-36 ore da ricevimento esclusi i festivi e le festività. E sei tu che decidi come utilizzare questa nuova possibilità. L'investimento è una tantum di soli 29,90 per bundle ed è ancora scontato tensione in esclusiva per le sole partecipanti attive della Mia Mind Body Coaching University and Community Libertà dal Dolore a soli 19,90. Se hai già svolto il tuo consulto strategico gratuito con me dal dolore al benessere, sai già che te ne ho parlato. Quindi saluto tutte le ragazze con cui ho parlato ultimamente. Vi avevo preannunciato questa cosa ed eccola qui, come al solito. e se ancora non hai svolto il tuo consulto gratuito, sempre qui sotto nel box informazioni trovi il link con la pagina di iscrizione. Ecco come funziona il Mini Mind Body Coaching Bundle. Bundle è un pacchetto, ok? Quindi puoi utilizzare questo pacchetto, questa offerta tutta in una volta oppure ti puoi spalmare le tue 10-15 domande, siamo flessibili, inviandole lungo un periodo di tempo che decidi tu. Quindi queste 10-15 domande puoi farmele direttamente su qualsiasi area della vita attualmente su cui vuoi lavorare o mi puoi spiegare su quale aspetto vuoi lavorare o in una situazione specifica in cui in questo momento sei coinvolta, come ti stai influenzando. Posso darti le indicazioni specifiche che ti aiutano a sbloccarti oppure a rendere ancora migliore quello che già stai facendo. E queste risposte che io ti do sono estremamente personalizzate su di te, chiaramente ovvio, specifiche, ritagliate sul tuo caso e naturalmente vanno dritti al tuo punto. Ci sono tantissimi benefit e vantaggi specifici che ricevi. Innanzitutto comprendere la natura del dolore pelvico cronico, sui sintomi, le infiammazioni, trigger, poi tionfezioni, ancora della prospettiva MindBody. Io ricevo richieste di questo tipo continuamente e quindi voglio aiutarti al meglio, dandoti già uno spunto senza che ti devi scrivere Libertà dal dolore, anche se comunque ottieni uno sconto se ti iscrivi lì. Se in questo momento preferisci avere un tipo di intervento di questo tipo, per esempio comunicare al meglio col tuo medico, l'altro professionista o il team di professionisti che ti ha in cura per ottenere il massimo beneficio dei trattamenti, perché molto spesso la comunicazione col professionista è fondamentale per ottenere il massimo da quello che stai facendo, dall'investimento in tempo, denaro ed energie a cui ti stai sottoponendo. Creare e mantenere relazioni migliori, più sane, con chiunque voglio dire. Sviluppare maggiore assertività, se ne parla così tanto, ma poi in concreto che cosa devo fare? Rimuovere blocchi, convinzioni limitanti, decisioni depotenzianti e progettarne la sostituzione con quelli che ti danno potere. Effettuare un concreto e decisivo salto di qualità nelle prestazioni in qualunque settore della tua vita, perché l'uso dei tool per il sollievo pelvico compresi è basilare. In molti ancora non hanno ben chiaro come applicare tutti questi strumenti e quindi mi chiedono aiuto. E quindi ecco qui, la capacità di comunicare efficacemente non solo col tuo medico professionista di riferimento, ma anche con tutti gli altri, con tutte le altre persone, il tuo datore di lavoro potenziale, se stai facendo dei colloqui o effettivo, il tuo partner, il tuo partner, i familiari, eccetera, eccetera, eccetera. Il vicino di casa rumoroso. ottenere chiarezza cristallina e laser focus sugli obiettivi che intendi perseguire è scoprire la differenza tra gli obiettivi finti e i veri desideri del cuore. Quelli non mentono mai. Non puoi sbagliare su questo. Come faccio a capire se il mio obiettivo è egoico o viene veramente dal cuore, dal nostro spirito. Se sei sul tuo smartphone, forse non lo puoi intanto notare, ma se sei da computer, nella barra laterale sul mio blog, www.idablance.com, sotto ti spiego cos'è il potere del cuore. è perché ho scelto questo logo e la chiave di violino di basso che formano un cuore. Ma è il singolo e fulcro del mio lavoro. Start to hear your heart. Hear your heart and start singing. Quindi coltivare maggiore motivazione per raggiungere i tuoi obiettivi di vita. Se non abbiamo obiettivi del cuore in campo, rischiamo di fare un gran casino nelle nostre vite, di bruciare tantissimi anni inutilmente, portare sofferenza a noi e agli altri. Creare e ricreare ogni giorno fiducia in te stessa e nelle tue capacità a prova di laser mind, la mente che mente monumentalmente, la mente di superficie, la mente di sopravvivenza. E molto, molto altra ancora. È il tutto in un format pratico, conveniente, ritagliato sul momento specifico che stai vivendo ora e è un investimento davvero speciale. I tuoi vantaggi non finiscono qui perché naturalmente, come ti dicevo, puoi creare la combinazione che vuoi in base al punto in cui sei. Puoi mettere insieme le tue sessioni private di un'ora in video e audioconferenza. Puoi mettere insieme la MindBody University and Community Online Libertà dal Dolore. Tu costruisci e decidi il valore di tutto questo da ricevere il percorso in attesa che il mio programma di lezione Vincere il Dolore Femminile, otto moduli, 12 settimane, tre mesi di full immersion nella scienza e nella pratica della connessione MindBody per dire addio al tuo dolore pelvico torni di nuovo disponibile. Qui sotto nel box informazioni trovi tantissimi link comprese le testimonianze di alcune testimonianze che ho avuto il permesso di pubblicare di donne in carne e ossa come te che in questi anni hanno lavorato con me e col mio metodo MindBody. Trovi tutti i link per iscriverti a il consulto strategico gratuito dal dolore al benessere se ancora non l'hai fatto e naturalmente tutte le altre possibilità per lavorare insieme. Ricordati, puoi guarire? Posso aiutarti e puoi assolutamente farcela. Noi ci vediamo il prossimo giovedì sempre qui sulla MindBody Coaching TV. Ti invito anche a collegarti al mio Instagram perché su Instagram pubblico tantissime altre risorse post motivazionali e video specifici per aiutarti a vivere meglio. Ti abbraccio e alla prossima!